Torta al Minotauro Ingredienti 100 grammi di bellezza fresca 30... no! Ben sgusciati Una... pugna Di ceseo zuccherato Un litro di possesso freddo Mescolate, mescolate sissi E lasciate riposare il tutto Io, Giovanni Starnocci Di anni 34 Trovandomi nell'appartamento Che dividevo con la mia fidanzata Ivana Approfittando del fatto che Ivana Era chinata Verso l'armadio dove stava scegliendo Il giubbino da indossare E stava sempre ora a scegliere cosa indossare Ma perché poi? Tanto non sapeva Che se non mi piaceva come si era apparecchiata La facevo cambiare Con il cavo di connessione Del tibuti Facevo un doppio giro al suo collo E mentre stringevo E mentre stringevo L'ho tirata di peso Facendola rovinare La pancia in giù sul letto Sul letto Erano tre giorni Che non voleva fare l'amore Tre giorni E lo sapeva che per questo fatto Stavo nervoso Mi amico Un uomo mica si può sentire rifiutato Ma erano tre giorni Non dico tre giorni